Redo è una società di gestione del risparmio nata da qualche anno per la volontà di Fondazione Cariplo, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo e Investire SGR che sono i nostri azionisti. È una società indipendente che gestisce investimenti immobiliari di tipo etico, sostenibile. L'obiettivo è quello di creare soluzioni abitative accessibili per chi non se le può permettere sul mercato, quindi creare abitazioni di qualità, locazione in vendita, valori spesso a meno del 50% del valore di mercato, quindi creando un beneficio economico per le famiglie. Abbiamo trovato in Deepkey il partner capace in brevissimo tempo di aiutarci a integrare tutte le nostre informazioni, aumentare la consapevolezza dello stato di funzionamento dei nostri interventi e nello stesso tempo costruire la disclosure per gli investitori necessari a ottenere il rating Gresb. Oggi siamo tra i primi fondi italiani dal punto di vista del rating. Il Gresb implica che raccogli, monitori e sistemizzi una serie di informazioni ambientali, ma non solo, sia a livello della SGR, sia a livello dei fondi e degli asset gestiti. Questa è una pratica che anche con Deepkey, anzi soprattutto grazie a Deepkey, attraverso il monitoraggio delle performance energetiche e dei consumi idrici dei nostri asset, siamo obbligati a fare e vogliamo fare per un controllo costante dei nostri impatti ambientali e non solo. Abbiamo cominciato a collaborare con Deepkey nel 2021 perché stavamo cercando qualcosa che ci permettesse di fare una gestione integrata dei dati energetici e che ci permettesse contemporaneamente il monitoraggio e una visione aggregata dei dati. Deepkey, non soltanto la piattaforma, che è una piattaforma altamente smart, di facile utilizzo, intuitiva, a cui possono accedere più persone, non soltanto io, ma anche i property e facility manager, ci ha aiutato a mettere insieme, a sistemizzare e a capire i nostri impatti che prima erano sul tavolo, dei fogli, delle bollette. La piattaforma Deepkey Ready è utilizzata sia internamente che esternamente all'azienda, internamente la utilizza l'area sostenibilità e l'area asset management per fare tutte le valutazioni anche rispetto a quello che sono i budget energetici. Per quello che riguarda invece gli esterni, in particolare oltre a qualche manutentore che comunque sia la utilizza per verificare i dati delle bollette, la utilizzano anche il nostro energy manager per verificare l'andamento degli impianti ed eventualmente dare indicazioni manutentive sulla gestione. Se non avessimo il supporto di Deepkey e di Deepkey Ready difficilmente riusciremo a riempire un modulo di Gresbo che è quello per le performance. Abbiamo lavorato per migliorare le nostre performance e per integrare ulteriormente le nostre pratiche all'interno delle varie funzioni interne riscontrando un miglioramento di circa il 40% medio in tutti i benchmark report che sono stati emessi dal rating. La storia dell'innovazione ha dimostrato che servono nuovi linguaggi ogni stagione per comprenderla e riteniamo che quello che stiamo facendo con Deepkey sia la costruzione di quegli alfabeti che nel mondo dell'innovazione mancavano per parlare la lingua della transizione climatica.